Ciao sono il dottor Asad e oggi parliamo di T-Bone e Fiorentine. Parleremo un po' di questo taglio famosissimo in tutto il mondo, molto utilizzato, parleremo dei diversi nomi che ha, dalle parti che compongono questo taglio e farò questa bellissima fiorentina di Sashi Freigard. Fiorentina e T-Bone sarebbero la stessa cosa, ma ho notato almeno dai commenti, guardando anche altri video, che c'è un po' di confusione riguardo alla fiorentina. La fiorentina è il pezzo della lombata posteriore, quindi diciamo da metà più o meno della schiena, anche un po' più indietro, verso la coda, ed è questo pezzo qui. Si compone da la vertebra, che è questa, questa è metà di una vertebra, quindi andrebbe così, questo è il muscolo che c'è sopra la schiena e questo è il filetto. Quindi questa è una metà, da qui ci sarebbe l'altro pezzo, l'altro lato, quindi abbiamo il controfiletto in alto, vertebra e filetto. Questo è il taglio che si chiama fiorentina o che in inglese chiamano T-Bone. Quello che ho visto io però è che c'è un po' di confusione, perché cosa succede? C'è la bistecca alla fiorentina, che è la ricetta tipica della cucina toscana, quindi un modo di preparare la carne, un modo di cuocerla, e il taglio fiorentina, che possono essere più o meno la stessa cosa, ma non sono la stessa cosa, nel senso che si vede che la ricetta è diventata talmente popolare che ha dato il nome pure al taglio con cui viene fatta, però il taglio fiorentina si può fare anche in tanti altri modi, cioè si può fare sia come bistecca alla fiorentina, ma uno può prenderlo e farlo in qualsiasi modo, lo posso fare, che ne so, lo posso fare non alla fiorentina ma alla griglia, lo posso fare in forno, lo posso, non so, impanare, friggere, fare una cotoletta, e il taglio sarebbe sempre una fiorentina, ma non sto facendo una bistecca alla fiorentina. Ma le fiorentine non sono tutte uguali, perché se io prendo una fiorentina di una vertebra più verso il centro della schiena, avrò l'inizio del filetto, che sarà molto piccolo, quindi avrò un pezzettino di filetto piccolo, se prendo una vertebra più verso la coda, avrò un pezzo di filetto molto più grande. Siccome il filetto è la parte più breggiata e più costosa, qualcuno avrà pensato, dobbiamo dare diversi nomi, dobbiamo in qualche modo differenziare, perché non possiamo far pagare lo stesso prezzo un pezzo di carne che ha un filetto così, e un pezzo di carne che ha un filetto piccolissimo. Quindi è nato il nome Porter House, che è con cui chiamano sempre una T-bone, sempre lo stesso taglio, però con un filetto largo almeno 3 cm, virgola qualcosa. Questa qui quindi in inglese sarebbe una Porter House, perché è un filetto che è di circa... 4-5 cm almeno, quindi un bel pezzo, che sarebbe poi la parte un po' più pregiata. In Argentina invece così si usa, ma di solito credo che si chiama anche sempre T-bone, spesso si vende però anche senza il filetto. Anche quello è un pezzo molto molto utilizzato in Argentina, nei ristoranti argentini sicuramente in menù trovate bife de chorizo, e non è altro che il pezzo del controfiletto, quindi il lato più grande della Fiorentina, disossato. In inglese invece questo lo trovate con il nome di New York Strip, oppure Strip Steak, che può essere con o senza osso. Di solito è senza osso, e se è con l'osso c'è scritto bone-in, quindi vuol dire con l'osso. Approfitto anche per ringraziare tutti gli sponsor del canale, quindi grazie a tutte le aziende che mi aiutano e collaboro con il canale in modo che possa continuare a produrre questi video. Io oggi questo pezzo di Fiorentina o Porterhouse, come vogliamo chiamarlo, di Sashi Freigart, è un pezzo che mi è stato spedito da Wilfred Shop. Su Wilfred Shop trovate una vastissima selezione di carni di tutto il mondo, da carne argentina, uruguaiana, americana, australiana, irlandese, Nova Zelanda, Spagna, di tutto. In questo caso proviene dalla Finlandia, è una selezione di carne, quindi non è una razza, ed è in realtà un marchio registrato, cioè un'azienda che seleziona i migliori pezzi di una certa zona della Finlandia e a quei pezzi lì gli dà il marchio. Qual è la particolarità di questa carne? Di solito proviene da mucche che possono essere di rassa Ayrshire, che è una pezzata rossa, oppure la Holstein, la classica frissona, la pezzata nera, ma che vengono allevate mangiando solo erba, però visto io credo le condizioni, l'ambiente, il clima, raggiungono anche un'amarezzatura importante ed è una cosa particolare che si riesca a raggiungere un'amarezzatura del genere mangiando solo erba. Vuol dire che è un'erba anche molto ricca e credo io che anche il clima, il fatto che sia in un ambiente molto freddo, aiuti a che questi animali mettano su un bel po' di grasso per resistere bene a quelle temperature, quindi viene un prodotto molto particolare. Io apprezzo molto anche la carne grass fed, che è come si chiama in inglese la carne che proviene da animali che mangiano solo erba, che è anche la scelta un pochino più naturale, diciamo di solito le carni più pregiate spesso provengono da animali che mangiano molti cereali, i cereali sono più costosi ma fanno ingrassare di più, invece qui abbiamo della carne di ottima qualità proveniente da animali che mangiano solo erba. Un altro punto in più è che non è così cara come altri tipi di carne che magari hanno queste caratteristiche e costano molto molto di più. Questa ad esempio su Wilfred Shop la trovate attorno credo ai 34 euro al chilo o qualcosa del genere, non è poco ma non è neanche tantissimo. Vedete tutti questi puntini di grasso che ci sono in mezzo al muscolo? Quei puntini sono quelli che poi sciogliendosi daranno molta molta succosità, molto sapore, molta tenerezza a questa carne. Un'altra caratteristica di questa carne è quel grasso lì che ha, è molto profumato, è molto molto buono, già toccandola se poi sentite l'odore che vi lascia sulle mani ha un profumo spettacolare, cioè ricorda molto, a me ricorda molto il burro, i formaggi freschi di malga, la panna fresca e poi si sente indietro un aroma che ricorda un po' il pascolo, l'erba, ma principalmente a me è quello che colpisce di più, è il profumo di burro che è spettacolare. Per la cottura diciamo che non sarà una bistecca alla fiorentina perché non sto usando carne italiana, non sto usando una carne di chianina, quindi non vorrei offendere nessuno, diciamo che non è una bistecca alla fiorentina, però in realtà userò la tecnica della bistecca alla fiorentina, cioè fatta qualche minuto per lato e poi la metto in piedi sull'osso, che in realtà è una tecnica geniale perché cosa succede? Quando hai una bistecca così, che è spessa almeno 4-5 cm, sono tre dita mie, si fa fatica a cuocere e far scaldare l'interno. Se noi facessimo tutta la cottura sui lati, quindi da un lato o dall'altro, con una temperatura molto alta, succede che l'esterno si brucia ma all'interno la carne è ancora fredda. Quindi cosa bisogna fare? Uno, tirare fuori la carne dal frigo molto prima di iniziare la grigliata, perché se tu la tiri fuori dal frigo e la metti sulla griglia, al centro tu hai circa 5 gradi, quindi portare quei 5 gradi a, non so, 55, 57, 60, quello che vuoi, senza bruciare l'esterno, è molto più difficile, quindi la tiriamo fuori dal frigo molto prima, qualche ora prima, vi svegliate al mattino, prima di iniziare a preparare tutto, tirate fuori la carne, così che inizia a scaldarsi piano piano, arriva a temperatura ambiente. Poi la facciamo sulla braccia molto molto forte, per me vuol dire mettere la mano sulla griglia e riuscire a contare circa 4-5 secondi prima di sentire che scotta, saremo attorno ai 200 gradi, 195-200 gradi, e lì la grigliamo per qualche minuto, possono essere di solito, dicono 5-6 minuti per lato, in modo da creare una bella doratura esterna, lì si va a occhio, guardate voi quando avete la doratura che cercate, però dopo 5-6 minuti per lato, al centro sarà ancora molto molto al sangue, quasi cruda, e probabilmente non sarà neanche ancora calda, quindi bisogna ultimare la cottura, continuare la cottura, cercando di far riscaldare il centro. Succede in più che questo ossicino qui isola anche molto la carne, quindi i punti più vicini all'osso, quindi qui e qui, rimangono sempre molto al sangue e si fa fatica a scaldare quei pezzi, quindi la tecnica fiorentina è poi metterla in piedi sull'osso, che per me è geniale, perché cosa succede? Il calore batte sull'osso, quindi uno, l'osso protegge questa parte della carne e evita che questa carne si bruci, si secchi troppo, due, si scalda piano piano e porta il calore verso l'interno, quindi aiuta a scaldare questi pezzettini di carne più vicini all'osso, in più mettendola in piedi stiamo allontanando dalla brace, quindi dal punto più caldo, la puntina della fiorentina, che è il pezzo che essendo più piccolo sicuramente è già cotto a un buon punto e se continuiamo la cottura di lato, quel pezzo lì si seccherà troppo, diventerà troppo troppo cotto, invece mettendolo in piedi la temperatura che raggiunge qui è molto più bassa, quindi riusciamo a fare una cottura interna molto più omogenea, quindi una tecnica molto molto utile, molto furba. Ci metto solo un po' di sale, oggi sto usando sale fine perché è quello che avevo a portata di mano, anche se di solito cerco di usare un sale medio, quindi una via di mezzo tra il sale grosso e il sale fine, perché per la carne e la griglia mi sembra quella ideale, ma oggi ho portato di mano il sale fine, quindi sto usando il sale fino. L'ho lasciata riposare qualche minuto, adesso la tagliamo, ha un profumo che sembra buonissimo, vediamo come viene. Tempo fa, sempre quando avevo fatto un taglio con caratteristiche simili, cioè carne con una buona amarezzatura, avevo detto che per me l'ideale sarebbe sì farla al sangue, tipo questa, vedete che il centro è abbastanza rosso, quindi abbastanza al sangue, però magari servirla su una piastra calda, che sia una pietra, una piastra inghisa, che te la scaldi sulla griglia. Io invece ho qui questo, che è una cosa che si usa molto in Argentina, magari in qualche ristorante argentino lo vedete, che è una specie di piccola piastra metallica e dentro ci si mette un pochino di braccia. E io lo preferirei servire qui, perché mi piace questa carne sia al sangue, però poi gli do una passatina qui, in modo da far sciogliere ulteriormente quei filini di grasso che ci sono all'interno del muscolo, che la rendono molto molto profumata, molto saporita. Adesso assaggiamo. Molto molto buono. Adesso assaggiamo un pezzettino anche del filetto, il pezzettino del filetto è talmente tenero che si riesce a sfilacciare con le mani. Molto buono, ha anche il sapore, anche se è molto diverso dagli aromi che dà. Comunque mi ricorda molto il verde, l'erba, il pascolo. Ha un gusto molto molto buono. La parte del grasso è quella che è molto molto burrosa, invece la parte della carne è quella che ha un gusto un pochino più deciso, che sa più di erba, ma molto molto buona. Bene, adesso vado a mangiare la mia bistecca. Questo è tutto, se vi è piaciuto il video lasciate un commento, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, fate tutto quello che sapete già che c'è da fare. Grazie, ciao ciao!